Cara Costa Viola News, caro Enzo, laurendi, grazie per la mattinata che ci avete dedicato. Ben ritrovati nella Sagrestia, nella Sala d'Arte della Chiesa del Rosario, dell'Arciconfraternita di Maria Santissima del Rosario. Questa è la sala dove è esposta, ed è tutt'oggi esposta, l'opera pittorica Giuditta Eoloferne. Un'opera restaurata di recente, grazie a una preziosissima collaborazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, dell'Arciconfraternita, con la collaborazione della sovrintendenza e dell'Università della Tuscia. Il nostro grazie sarà infinito verso le professoresse, le direttrici e le laureande che si sono laureate proprio durante il restauro, ricostruendo la storia di quest'opera pittorica omaggiata alla nostra Arciconfraternita già da secoli. La nostra Arciconfraternita viene fondata intorno al 1584. Ma purtroppo i nemici della storia sono i terremoti, gli incendi e le guerre. E il grande flaggello del 1783 ha cancellato buona parte della nostra storia. Tant'è che l'unico documento, il documento più antico, ci riporta al 1632. Ecco perché nelle nostre manifestazioni, nelle nostre stampe, si fa riferimento a questo 1632. Questa sarà e sarà la Sala d'Arte dove abbiamo dei pezzi pregiatissimi. Oltre all'opera pittorica di Giuditto de Loferne abbiamo dei pezzi antichi appartenenti alla seconda e alla prima chiesa. Perché questa è la terza chiesa del Rosario che proprio quest'anno, il 25 ottobre, e con l'ufficialità, la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Oliva, Vescovo, avremo l'ufficialità dell'apertura dell'anno giubilare. Un evento importantissimo per la comunità bagnarese, per la parrocchia di Bagnara, per la Calabria. Perché è stata concessa eccezionalmente da Sua Santità e il Sommo Pontefice l'indulgenza plenaria. E in questa stanza troviamo altri manufatti antichi. Qui abbiamo uno stensorio, verrà esposto per le Sacre Quarantore, fine mese di ottobre, fine festeggiamenti del mese della Madonna del Rosario. E poi anche in attesa della Santa Pasqua. Un'altra opera antichissima, risalente alla prima chiesa del Rosario, è il Padre Eterno. In Italia probabilmente l'unica scultura del Padre Eterno. Perché vi sono riproduzioni pittoriche, mosaici, ma sculture che ufficialmente non abbiamo tracce. La nostra pare sia l'unica. Come vi dicevo, qui abbiamo l'opera pittorica antica e qualche accessorio che i nostri sacerdoti, i nostri vescovi, quando ufficiano le messe solenni, li portano indosso per ufficiare la messa. Io vi ringrazio nuovamente di tutto a nome della famiglia Parisio, a nome del Consiglio di cui ho l'onore di farne parte. Sicuramente ci saranno tantissime altre occasioni in un anno giubilare ricchissimo di eventi.